Ciao, come si colora un figurino di moda in digitale? Te lo mostro in questo video. Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74 dove insegno a disegnare la moda, il figurino di moda, se vuoi fare la stilista o ti piace disegnare per passione. Questo è un video dove ti faccio vedere come colorare il figurino di moda in digitale. Trovi nei link in descrizione lo stesso tipo di soggetto con lo stesso abito di Emporio Armani, fatto però sulla carta e colorato con i pantoni. Quindi per lo stesso soggetto sul mio canale trovi due tutorial, uno in digitale e l'altro del disegno sulla carta con i pantoni. Lo trovi nella playlist del figurino veloce, perché sul mio canale ho più di 200 video che sono divisi per argomento. Quindi troverai la playlist del figurino veloce, la playlist per colorare coi pennarelli, con la playlist per gli acquerelli, la playlist per i pennarelli acquerellabili e poi quella per le matite colorate. Oppure se sei un beginner che ti approcci al disegno della moda, stai cominciando a imparare a disegnare e vuoi fare la stilista, trovi anche la playlist con le basi del disegno a mano libera. Come ti dico sempre, se mi segui da tempo, saper disegnare a mano libera ti aiuta molto quando vai a fare il digitale, perché quando tu disegni a mano libera sulla carta non hai la possibilità di fare tante correzioni e quindi è molto più difficile rispetto al digitale il disegno a mano libera. E' chiaro che se tu impari le luci, le proporzioni, come si sfumano i colori, la tridimensionalità, la impari quando disegni a mano libera, quando ti trovi a disegnare in digitale è molto ma molto più facile. Sul mio canale questi video sono più di 200, sono divisi in playlist e ogni settimana pubblico dei nuovi contenuti, quindi ogni settimana un nuovo contenuto di valore per imparare a disegnare la moda come un fashion designer. Nei link in descrizione, oltre a trovare questo video fatto sulla carta coi pantoni, trovi anche il link per paypal se vuoi fare delle donazioni per sostenere il mio canale perché io continui a pubblicare altri video. Sempre in descrizione se ti piace come disegno ho uno shop online in cui sicuramente troverai il prodotto più adatto a te con il mio design, quindi mi fa piacere se lo vai a vedere. Sono Patrizia Patto74 e ho lavorato tanti anni in aziende di abbigliamento nell'ufficio prodotto e nell'ufficio stile. Ho fatto anche cinque anni come scuola d'arte, sono maestra d'arte e tre anni come stilista, quindi sono anche stilista. Bene, in descrizione trovi tutte le info, se come me sei su Instagram mi trovi anche su Instagram, ci troviamo anche lì, mi puoi seguire sul profilo di Patto74 fashion illustration e anche il profilo dello shop online che è Patto74 style. Bene, ogni settimana nuovi contenuti di valore per te, non ti resta che iscriverti, se vuoi realizzare il tuo sogno di fare la stilista o ti piace disegnare per passione, saper disegnare il figurino è un mezzo che ti serve per creare e per esprimere, creare vestiti, creare collezioni, per esprimere anche la tua creatività. Lo puoi fare sulla carta e lo puoi fare anche in digitale. Bene, ci vediamo tutte le settimane su YouTube. Un grande saluto da PatriziaPatto74, non dimenticare di iscriverti al mio canale YouTube e anche seguirmi su Instagram. Ciao ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!